Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo commentary del TheShareGaming Io sono Favij e qui con me oggi c'è... Nickybox E basta E basta Siamo solo noi due oggi Eh, e Puffo non c'è perché purtroppo ha contratto una rara malattia neurointestinale Neurointestinale che collega appunto queste due parti del corpo, molto vicine fra di loro Esatto Vabbè comunque, oggi siamo tornati dopo tantissimo tempo su Minecraft Perché vogliamo mostrarvi, vogliamo rispondere a un casino di domande Inoltre vorremmo mostrarvi una mod molto particolare Qua non si capisce più niente perché non sono più abituato all'italiano, dovrei mettere inglese Perché notate che Minecraft adesso con la 1.1 è passato in italiano Con la nuova patch Preferivo in italiano Sì, c'è diciamo la possibilità di switchare lingua comunque Esatto Andiamo subito a dirvi le cose che vogliamo dirvi perché sono importantissime e perché abbiamo poco tempo Allora, in molti innanzitutto ci hanno segnalato del fatto che vogliono Chiaramente sono rimasti Cioè, gli è piaciuto Nafraghi e vogliono il seguito E vi diciamo che ci sarà però non adesso perché abbiamo in mente altre cose Dobbiamo mettere a posto un po' di roba Quindi non vogliamo proprio lasciarvi a secco di Minecraft Diciamo, facciamo un po' il rifornimento Però non è niente di caso Poi la serie arriverà un più avanti e ci saranno altre sorprese Allora ragazzi, oggi faccio questo video perché voglio mostrarvi innanzitutto questo Che però adesso andiamo solo a vedere un attimino Non è niente di che perché poi lo farò vedere bene più avanti Adesso non è questo l'argomento del giorno Questo comunque è l'argomento di cui volevo parlare appunto E questo è il nuovo mondo del TSG Che è tipo un mondo alla capobastone Nel senso che ci sono tante case fatte da noi Quella è la casa di Nicky Box che abbiamo visto prima Questo è il Faro Che diciamo ho preso le schematiche di tutti i più bei Ma posso valare perché salgo Ho preso le schematiche di tutti i più bei Edifici che abbiamo fatto fino ad oggi Su Minecraft e l'ho messo insieme Allora non è appunto di questo che vi volevo parlare Ma oggi andremo a trattare Un argomento ben diverso Che è questo qui Non ci rimanete male la prima volta Può succedere però guardate Oh my god Tuffo, incredibile C'è la giuria Sì c'è la giuria 10, 10, 10, 10 10, 10, 10, perfetto Grazie a tutti, grazie Troppo buoni E vedete anche le movenze del volo E attenzione ragazzi Vediamo se riesco a farlo Oppure epic fail Epic fail Sono troppo Vabbè comunque Penso che abbiate capito Che c'è qualcosa di strano Oggi andiamo appunto a trattare Della mod di Minecraft Che è già uscita da un bel pezzo Comunque Pensavo della bamba su Minecraft Che è Anche quella Queste incredibili capacità di volare A fare tutte queste cose Esatto Mi sbagliavo evidentemente Praticamente Questa mod si chiama Smart Moving E offre appunto Questi nuovi tipi di movimenti Puoi correre più veloce Puoi fare lo sprint Puoi arrampicarti E funziona anche sui server Però C'è Chi non ce la vede Che sembra che stai volando Quando ti arrampichi sulle cose Comunque sia Questa è veramente una mod bellissima Ti permette di fare un bel po' di cose Che ne so Puoi anche strisciare Quindi passare nei cunicoli Facciamo un esempio Non lo so Allora Allora Io ho smontato una penna Non riesco più A montarla Epico No Niente Ci rinuncio La butto Guardate Posso strisciare qui sotto Comunque andare Nei pertugi Come nelle talpe Vabbè Comunque Penso che abbiate capito Ho rovinato il mio povero mondo Che vi farò vedere meglio Il prossimo video di minecraft Quindi siamo tutti contenti Allora Abbiamo Esistono Appunto Delle mappe Fatte apposta Per smart moving Andiamo subito a vedere La mappa di oggi Che È una mappa che ho scaricato Da minecraft forum Che appunto Serve Per chi ha smart moving Allora Adesso andiamo a farvi vedere Tutto quello che ci offre smart moving No porca puttana Mi chiami Boh mi è morta la penna Boh Stavi dicendo Uh Ma l'hanno aggiornata Epica sta cosa Vabbè Sì stavo appunto dicendo Adesso Nel frattempo che vi faccio vedere questo Poi So che vi piacerà un casino E alla fine abbiamo preparato Un piccolo tutorial Su come installarla Come scaricarla Perché È una moda abbastanza Difficile da installare Non è così facile Vabbè Cosa? Mentre fai queste cose Magari possiamo anche Parlare su Cosa sta succedendo In questi giorni Sì Ovvero la chiusura di Mega Upload Mega Video Che è un duro colpo Per tutti noi internauti Che siamo Molto Internauti Serve astronauti Di internet Esatto No che siamo molto legati A questi due siti Perché ci offrono Una grande varietà di cose Cioè Come dire Chi è che Fra di noi Non ha mai usato Mega Upload Mega Video Ragazzi Sparatevi questa Facciamo per Mega Video Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Mamma mia Prince of Persia Ma che Prince of Persia C'è Minecraft qua No dicevo Continua Continua pure No quindi A me Personalmente Sembra una cosa Fuori dal mondo Che Chiudano questi due siti Molto importanti Perché Questi due siti Rappresenterebbero Il primo passo Cioè Nel senso Sono i primi siti Che hanno chiuso Ma Ne chiuderebbero Molti altri Perché non so se Qualcuno di voi È andato a leggere Gli articoli E cose varie Sulla sopa E sull'altro provvedimento Che si chiama pipa Pipa Che secondo me Volevano prenderci per il culo È una presa per il culo E quindi niente Non so se l'avete letto Comunque Qualunque cosa Sia all'interno di un sito Che viola il copyright Che ne so Ad esempio Io metto Sul mio canale La musica di Boh Di Bamba Niente Se viola il copyright Chiudono Oscurano Tutto il sito di youtube Proprio Non solo il mio canale Tutto il sito di youtube Quindi Chiuderebbero Un casino di siti E Boh Quindi sarebbe Una cosa Il computer Lo possiamo anche buttare Perché Cioè Il computer è nato Per internet Epic fail Ne ho fatto un salto Lungo un chilometro Non ci ha azzeccato Boh Neanche minimamente E vabbè Comunque Alla fine Fateci sapere Cosa ne pensate Perché dobbiamo fare qualcosa Perché se passa Questa legge In america Cioè Alla fine Se passa In qualsiasi altra In qualsiasi altro Paese del mondo Ce l'abbiamo Nel culo tutti Però Potrebbe anche chiudere youtube Sapete ragazzi Eh sì Infatti L'ho detto prima Poi Non ci saremmo più noi Ragazzi Ragazzi Non piangete Grazie No vabbè Comunque Per noi Che ci rappresentano Ci sono Non vorrei dire Non so se l'avete sentito Comunque Informatevi We are anonymous Esatto Che Diciamo che Lottano per noi Hanno infatti Subito dopo Il giorno dopo Della Come si dice Dove hanno annunciato Che avrebbero chiuso Questi siti E li hanno chiusi Il giorno dopo Mi sembro Dopodomani Cioè come si dice All'indopodomani Della Della decisione Hanno Hanno attaccati i server E i siti Delle FBI E delle varie Case produttrici Di film Che non c'entrano In cazzo Con le FBI Infatti non ho capito Perché E comunque Hanno oscurato I loro siti E boh Comunque si stanno Facendo sentire Diciamo che Anonymous Sono sempre stati presenti In qualsiasi problematica Di qualsiasi governo Infatti Qua in Italia Non ne hanno parlato Ma c'è stato un periodo Dove hanno anche Oscurato i siti Del Di come si chiama Mediaset Quindi Sono molto presenti Anche se non li vediamo E non ne sentiamo parlare Comunque Fateci sapere Le vostre opinioni E boh Lory Vai avanti tu Con quello che Dovevi far vedere Fai un po' di freestyle Ci ha illuminato Con tutte queste news Niki TG24 Allora Andando avanti Avete potuto apprezzare Che cosa ci può offrire Questa mod Che secondo me È veramente epica Guardate qui Tipo Spiderman Praticamente È una delle Forse è la mod Più bella Che abbia mai giocato È veramente Fatta bene Botta di lag Ragazzi Io vi consiglio Di provarla A fine video Ci sarà un piccolo Mini tutorial Di 4-5 minuti Su come installarla E scaricarla Ci ho messo 4-5 minuti Per una mod Perché Ci sono un paio Di mod loader Da installare In aggiunta Perché È una mod Che richiede Un po' di programmi A parte Comunque Programmi Sì no C'è nel senso È un mod loader Che andete sempre A mettere Nella minecraft.bin Comunque Ho finito il percorso Sono riuscito A fare soltanto Un fail Per fortuna Adesso mi spiaccico Sull'asfalto Sull'asfalto Sulla terra Perché io giustamente Vedo l'asfalto Con la terra Succede E niente Avete visto com'è Più o meno Allora Vediamo se posso Dare un occhiatino Ancora qui E vi faccio Di nuovo vedere Il mio salto finale Poi boh Direi che possiamo chiudere Abbiamo parlato Praticamente Soltanto di megavideo Ma di megavideo Perché praticamente Non sapevo più cosa dire Diciamo che sono le cose Che ci interessano maggiormente Oltre alla mod Di minecraft Sono le cose che In questo momento Per noi È una cosa Molto importante No ma più che altro Perché Più avanti Cioè nel senso Magari sto video Lo stavo guardando Una persona Che nel 2014 Mentre megavideo È già Ristato aperto Insieme a megaporn E tutto il resto Megaporn Cos'è Un noto sito Come era Già Non era megaporn Una roba del genere Vabbè comunque Sì più o meno come youtube Dai Esatto E quindi niente Spero vi sia piaciuta Come mod Allora dai Vi lascio No non vi lascio ancora Vi voglio dire due cosette Allora Innanzitutto Vi voglio dire Che in questa settimana Usciranno un po' di video Che in particolare Oh cazzo Esatto No Ok Scusatemi che ho messo Una molla La molla della penna Nentre il jack delle cuffie Allora Poi Niki ci spiegherà Il perché Non lo so Praticamente Volevo spiegare Il fatto che In questa settimana Usciranno Parecchi Parecchi Tra virgolette Usciranno diversi video Abbiamo già in programmazione Tra cui uno di Niki Il tutorial di Puffo Su come fare l'intro E Spero Che questo video Come alternativa Vi sia piaciuto Anche se non abbiamo parlato Cioè Della mod Non c'è tanto da spiegare Beh Fa questo che vedete E qui sotto Vi lascio i comandi Su come Come si utilizza E il tutorial Che adesso vedrete in seguito Come installarla E Diciamo che questo video L'abbiamo fatto un po' Per coprire il vuoto Che ci sarà Tra il prossimo video Tra i prossimi Niente Spero vi sia piaciuto E come al solito Se Se Di vostro stato Di vostro gradimento Mettete mi piace Mettete mi piace Soprattutto per le poste italiane Che in questi giorni Mi stanno facendo bestemmiare Mettete un pollice in su Per loro Sì sì esatto E niente Penso che il video di oggi Sia finito qua Esatto Il video di oggi Finisce qui Vi mando tanti cari saluti No vabbè scherzo Il video di oggi Finisce qui Mettete mi piace se volete Se avete un cuore Come al solito Mettete preferito L'ho capita adesso Quella lì che Vi mando Sì vabbè Buonanotte Vabbè dai Ciao 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 raga Vabbè dai Vabbè dai